Nelle Marche prende il via la sperimentazione della terapia al plasma anti-Covid-19. La stessa utilizzerà il plasma da donatori guariti come cura precoce per pazienti con polmoniti da SARS-CoV-2. Il protocollo di attuazione è stato illustrato in mattinata in una conferenza stampa a cui hanno preso parte il presidente Luca Ceriscioli, la dirigente del servizio sanità Lucia Di Furla, il direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale di Medicina Trasfusionale Daniela Spadini, il direttore della Clinica Universitaria di Malattie Infettive Andrea Giacometti ed il rappresentante del Comitato Etico Regionale Massimiliano Marinelli. Le Marche parteciperanno così ad uno studio multicentrico che ha come capofila la regione toscana e che coinvolge anche Campania, Lazio, Umbria e la sanità militare. I poli di reclutamento marchigiano copriranno l'intero territorio, saranno infatti il servizio di medicina trasfusionale di Ancona, di Pesaro e di Fermo, in quanto qui sono agganciate le unità operative di malattie infettive. Per agevolare i candidati donatori ci si potrà recare in uno dei 12 servizi trasfusionali regionali per un prearruolamento e per un successivo invio degli idonei ai tre poli di riferimento. La regione Marche, ha detto Ceriscioli, prosegue il percorso della buona informazione a servizio della comunità. Abbiamo sempre garantito informazioni tempestive, ha spiegato, combattendo le fake news. Oggi abbiamo reso comprensibile, con cura e semplicità, ascoltando i professionisti un percorso scientifico e tecnico di grande qualità. L'atteggiamento della regione, ha proseguito, è sempre stato quello di aprirsi a qualunque opportunità e soluzione positiva per metterle a disposizione del sistema sanitario. Nel percorso del protocollo, la medicina trasfusionale gestirà donatore, donazioni ed assegnazione, operando con due tipi di candidati, i donatori abituali, con un percorso più snello, e i pazienti donatori nuovi, che dovranno essere sottoposti ad un percorso di arruolamento più dettagliato. Requisito fondamentale per tutti è quello di aver superato la malattia e di essere in regola con il percorso tamponi e avere un numero di anticorpi sufficienti. Per il donatore abituale, il tramite rimane l'Avis, che sarà deputata a prenotare la donazione presso il centro trasfusionale di riferimento. Per quanto riguarda i soggetti ricoverati, che sono già stati informati di questa possibilità e messi in contatto con il trasfusionale, per motivi di sicurezza, il protocollo prevede che i pazienti attendano 14 giorni dopo le dimissioni. Per l'applicazione della terapia ci sono dei criteri base. La maggiorità, la condizione di covid positivo e la fase precoce dell'infezione. Gli anticorpi sono infatti maggiormente efficaci nella prima fase della malattia. Il rappresentante del comitato etico, Massimo Marinelli, ha poi spiegato che il protocollo marchigiano è stato migliorato in tutte e tre le linee di riferimento al quale si deve attenere, ovvero la salvaguardia della salute dei soggetti interessati, la scientificità dello studio e la tutela della sanità regionale. In conferenza stampa è poi stato spiegato che ci sono già alcuni donatori disponibili. Il plasma, infine, è stato ricordato, potrà essere utilizzato in eventuali fasi successive di riacutizzazione del virus. Infatti si mantiene per un anno.